buonasera a tutti sono rujunaraku se preferite bento al sud del museo da combatto oggi affrontiamo il 50 stamina di goku ultra istint con goku ultra istint un remor mod non completo sto ancora testando tra girene goku str chi è il migliore io devo portare ancora tour il goku devo portare ancora tour il goku ultra istint per ora sono dalla parte di gira devo portare s10 goku god str e provarlo nel tempo dato che non mi farci se abbattere un god attivo per il resto per ovvio motivo preferito legge fisico legge tech mi pare logico e comunque ho messo zamasu lr perché c'è il funzione del danno e mi ricarica gli hp quindi è comunque un ottimo pg il goku ii abiliti 3 nella ricerca di gire ne ho trovati infiniti l'amico non ne ho idea ma per adesso se ne va via l'amico non è questa la formazione in cui mi serve siamo potendo start e i danni sono ancora bassi la formazione in cui mi serve Ho due Facciamo così Sì è tutto testing per adesso ragazzi non sto giocando seriamente ancora Fammi danno Ottimo Non voglio che mi faccia danno per andare in master Dato che in team completo ragazzi non lo vedrete quasi mai con team master Non sapete neanche com'è fatto con team master in team completo Questa è la vera dell'occasione in cui posso Non mica tanto La vera dell'occasione in cui posso vedere con i master Ma non mi pare proprio Non ho visto quantità che ho caricato Facciamo 82.000 Ci sta Ma è vero che poi E' anche vero che è deboli a Jiren Assunto piccolino Tutte le fasi dovrebbero essere pesantemente deboli a Jiren Il mio giro in ability 1 E non pensiate sia ability full o altro Comunque non avevo infinite stone Ho sculato nella batch Più che Tante stone Ho semplicemente sculato nella ricerca del secondo giro E' uscito il mondo Ma non ci ho speso neanche mille stone Eh infatti pensando mi piacerebbe che ci arrivasse a Jiren Ma dubbito Però lo sa che comunque linka anche bene con Jiren A quanto para Vabbè avevamo molto tempo di vedere Jiren Cosa mi vado a rifare Eccoci arrivati a sta fase Questa fase è una tristezza Ok 159 133 159 Ok C'è anche un terzo PG Oltre In Goku Che sto prorovando nel team Non lo provo perché l'ho riportato SSR Perché non gli desse Cosa che penso Vado a metterlo di fare Perché non gli serve Però E' già carino Non lo provo Mi non è 4 Mimmi di fare Namico Non male Non male Vabbè Che sei Un mero Una mera prova Ragazzo dovrebbe morire male penso che regga un milione e set, mi aspettavo un po' di più però c'è un milione e due milioni e trenta di rosè ah no vabbè a tutta la facciamo proprio zero problema e ora si parte, ora partiamo ragazzi allora comunque quindi un potenziamento c'è anche con Jiren perfetto vediamo quanto male fa Jiren col power up che ha per lo stage sono incurioso un milione e una faccia ah vabbè zero redaction proprio il danno tanto come se non ci fosse un domani un milione e due ma io voglio che ci facciano danno non serve neanche a provarci allora ragazzi 600 700 1300 2100 2200 ok in realtà qui sono da calcolare anche in maniera diversa eh perché gli facciamo più danno non c'è la redaction quindi 2426 prossima firmata e poi c'è gente che dice che ancora che Veget LR str fa più danno a me non pare proprio neanche nei sogni però lo farò un video giusto per smentirli facendo vedere dieci turni di Veget fisico e dieci turni di Veget str con Veget fisico che in più di cinque turni fa più danno eh questo è una prova in questo 1 Veget test che avrebbe fatto molti meno danni si vabbè si vabbè app di danni ok ma aspetta un meno finalmente siamo arrivati ai danni seri e ci vuole un po' per carburare ah io continuo a pensare che Ultra Extinct Master non lo vedremo e staranno il Tetrix cioè ho giocato apposta la versione making completa con lui leader e chi ha più difesa o si io non preferisco Jiren se devo essere sincero eh io preferisco pesantemente Jiren ma Jiren non lancia la special quindi ora non capo può neanche essere fatto io per sicurezza di max sui HP non mi filo molto penso che puoi dicere molto ma boh non voglio buttare no poi aspetta vabbè no avremmo letto di Dio stanco ultimamente qui questo è una più Sì. Altra turnazione fattibilissima in questo turno farà più danno un Veget SDR oppure un Veget Il Veget fisico ragazzi, però è scontato, no? Ci sono questi i tuni dei doccani eventi di adesso ragazzi, cioè il nemico attacca 20.000 volte e tecchi counter hits 20.000 volte, e il counters o danno? C'ho rotto l'acqua, so che andrò l'aumento dei danni che faccio in questo turno solo per vedi? Chiaro che potrò rompere meglio eh, in realtà, potrò mettere Veget SDR al posto del Reflect e non sta crittando, si crittava Secondo me Veget SDR non li fa tutti questi danni, no? Nell'eventualità che non so come, lui direi che i prossimi più attacchi, vediamo Master Master, ma fidatevi in noi, vedete come possa leggere Questi cavoli li vedi a Master ed è troppo pompato Rosellea, come ha fatto subito 56 dadi a Rosellea? Eh, perchè ha spammato una marea di 18 K, e come mai avrà una difesa di 21 milioni? Bene ragazzi, anche questa è fatta, noi ci vediamo come al solito ad un prossimo video! Sì Blasi, ho provato a rubarti la chiusura Buona serata ragazzi, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!